Ben ritrovati telespettatori di Le Fonti TV, siamo ancora a Palazzo Mezzanotte per questi Le Fonti Awards dedicati al mondo della comunicazione digitale e non. Ma a proposito di star della comunicazione e del web, ho l'immenso piacere di avere qui con me Federica Cacciola, alias Martina Dell'Ombra. Esatto, buonasera, grazie per avermi invitato, una serata bellissima, devo dire sono molto orgogliosa di essere qua. Bene, noi lo siamo altrettanto, questa è una serata dedicata alla comunicazione, stiamo chiedendo un po' ai nostri ospiti quelli che secondo loro possono essere i tre consigli o tre segreti, magari anche nel tuo caso, per fare una comunicazione convincente attraverso il web. Allora, non è semplice perché la comunicazione dipende molto dal messaggio, per cui deve essere modulata a secondo del messaggio del brand o della persona che deve comunicare. Diciamo in generale, credo, i tre consigli più importanti siano avere qualcosa da dire, che non è scontato, può sembrare banale ma non è così, perché bisogna ben pensare al contenuto, per cui il cosa dici ben prima del come lo dici, secondo me è molto da ragionare. Non essere mai snob rispetto ai nuovi media e rispetto a tutto quello che di nuovo arriva, poi non è detto che sia importante per te in quel momento lanciarti in un campo mediatico che magari non ha a che fare con il tuo target o con la tua community, però è importante continuare a studiare e poi sicuramente la costanza. Quindi costante, tu sei appunto diventata celebre attraverso YouTube, adesso ci sono anche con Instagram le stories, hanno anche delle altre tempistiche, delle altre modalità anche di storytelling. Ecco, come tu ti stai approcciando? Allora, io ho iniziato da YouTube, poi sono passata a Facebook, prevalentemente perché i video rendevano meglio lì, soprattutto essendo video di satira politica, quindi l'argomento politico funzionava più su quel mezzo. Io su Instagram ho una mia comunicazione, ma è completamente diversa da quello che faccio su Facebook, è una comunicazione creata ad hoc per il mezzo e credo che sia la cosa più adatta da fare, adattare il contenuto al mezzo che si usa. E riguardo all'essere più o meno politicamente corretti o scorretti, tu hai fatto giustamente anche dell'essere un po' politicamente scorretta un marchio di fabbrica, ma oggi che impazza soprattutto sui social anche con un po' di aggressività. Il discrimine ovviamente è l'ironia ed è il tipo di messaggio che viene lanciato. Ecco, tu come ti poni su questo ambito? Io credo che il politicamente scorretto sia fondamentale, soprattutto per chi si occupa di satira, quindi si occupa proprio di quello. A volte c'è un'esasperazione sul web, ma quello fa riferimento al fatto che non tutti hanno gli strumenti per poterlo utilizzare in maniera corretta. Detto questo, io credo che solo una società che sia un po' politicamente, che riesca ad essere politicamente scorretta, sia una società veramente libera. Quando saremo tutti politicamente corretti dovremo iniziare a preoccuparci. Perfetto, allora, politicamente scorretta, non dovevo dire perfetto, ho già sbagliato subito, ma adesso mi attrezzerò a me. No, ecco, giusta, infatti, devo prendere assolutamente delle lezioni da Federica Martina. Grazie, grazie per essere stata qui con noi, speriamo di averti magari anche in studio per, insomma, qualche tua analisi anche sull'economia, anche su questo. Molto volentieri, l'economia è la mia prossima frontiera, proprio perché non ne capisco nulla. Beh, ma è un modo per iniziare. Grazie ancora per essere stata qui con noi, cedo l'Alina allo studio.